Bella a tutti ragazzi sono TheKingGalore, benvenuti oggi qui in questo nuovissimo video questa qua sarà la intro del video che andate a vedere prossimamente proprio appena finisce questa breve intro del cazzo innanzitutto diciamo che il gameplay che state per vedere è una parte di un video che ho caricato l'altra volta sempre di Black Ops 2 però per motivi di tempo questa partita l'ho tagliata per potervela caricare un altro giorno è durata 10 minuti quindi comunque uscirà un video abbastanza normale di 6-7 minuti spero niente lo sto facendo così perché comunque mercoledì devo partire quindi mi sto preparando tutti i video prima in modo che siccome adesso diciamo sto tornando attivo su youtube vorrei non lasciarvi diciamo dei vuoti insomma quindi praticamente me li sto arricchando tutti prima e me li evito prima in modo che poi ci avrete la settimana coperta niente dopo questa prima parentesi vi lascio al video buona visione eccoci nella terza partita speriamo bene speriamo bene nemici sembrano forti non ho detto adesso speriamo bene mi ricordavo questa mappa quando giocavo tipo mi scoppiava a bestia ho trovato un posto per scontrappare te al 96 sempre presente non me ne porti niente è la tua pussy che è un morto vivente stimolo carente ha avuto di mente faccio questo con la sindrome del prepotente in le panchine svegliarsi a fianco del mio amore sono Carlo e Francesco a togliermi il dolore è il mio clan che mi formisce il giusto rumore è il calore della mia passione che tanto non muore ma tua madre c'ha un fantasma il suo inglese è Cureman con pochi soldi a B oiii no bro la 1 6 0 è un armi tua madre c'ha un fantasma non io le panchine sono io ogni volta che respiro è il polmone che si dilata quando tracce il buon tiro in le panchine fuma il crack con la B oiii no bro ma ti sparo e poi te mi lo tollo del crack nella casa maledetta a registrare i pezzi con il tasto su cassetta ne vado no so pezzo truice boys vendetta la mia gente non si rispetta ma ti ho sparato priva per una puttana che sparisce con le panchine e rap con il rap di martello e le ma io ho fatto una bamba da ma so ma le infortunaci ma dove sono i nemici priva dove stanno siano morto sulle strisce ma stanno piazzati su B no da macroni vuoi fiate di botte in due col mio gemello sono le carceri di cacci cocco per rimarci a stacci poi panchine nel giardino l'altro vuoi morire morto centocento invece no oh cazzo sono i graffi sangue per la zona è il mio matone addio che sono morto l'era mamma che mi sveglia dal coma sono una voce sopra la base sul disco dei tre fase sono i cori della roma tempo sulla drum in base il mio gemello a sub augusta che fa una busta in te panchina in piatto da ragazzi si eseri dove non ha dei bambini il taglio della merce vanno sempre assieme ho visto il troppo amorezza è la più grande ricchezza qualcuno ho uno dal visat e non ho scusi da sganna mannaggia uno dal cazzo di visat mi so girato per ricaricare e mi è venuto quel coglia di merda si troveri romano di romano la scanna totalmente che nero argento e spara a feretta esco alta in stazione gesù ma venite subito una nuova macron fate ritardati in merda una cazzo di bandiera si deve prendere non quella mare quella troia di vostra mare tutti i subì stanno buttati come la troia di vostra mare guardalo 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 guarda che tumore è un'altra storia che finisce è il cadavere di un ma guarda che lobiti ritardati guarda ma io veramente so senza parole vabbè se muori fratello mio ci mettiamo d'accordo parliamo basta che mi dici del mercedes però muori grazie guarda quello cazzo sei superman quando minchia sfumate sua muori 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 Eh, peccato l'abbiamo perso. Però dai, GG, ci sta. 34-12, buona, buona. Vabbè ragazzi, comunque spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, c'è tantissimi piaci, iscrivetevi al canale. E niente. E noi ci vediamo al prossimo video.